Buongiorno, siamo Elena Ghidini e Tommaso Cecconi, due HR Business Partner di Fineco. Volevamo in 20 minuti farvi entrare un po' nel nostro mondo in una maniera un po' diversa, anche perché dietro un computer è un po' difficile, però cercheremo un po' di trasmettervi il nostro entusiasmo e la nostra passione nei confronti della nostra azienda. Per rompere un attimo il ghiaccio vi facciamo vedere un video che ci racconta qualcosa di noi. Nasce il primo conto remunerato in Italia. Banking, trading e investimenti sono ora integrati in un'unica piattaforma. È il 2002, si prospetta un nuovo futuro. Negli anni seguenti fervono le innovazioni. Fineco si dedica sempre più alla consulenza finanziaria. La rete di promotori diventa capillare in tutta Italia, unendo il supporto della tecnologia al valore degli uomini. Nel 2004 il successo nel trading è ormai consolidato. Fineco è il primo intermediario per volumi negoziati su borsa italiana. Ancora oggi Fineco è numero uno in Europa. 7 luglio 2008, una data che passerà la storia per la fusione tra due importanti reti di consulenti finanziari. Fineco si unisce a Xelion e si posiziona tra le prime tre reti in Italia. Fineco diventa un'unica in Europa. Un sistema di distribuzione innovativa di servizi finanziari che combina l'efficienza dei canali digitali con la professionalità di un grande network di personal financial advisor. Nell'estate del 2014 la banca si quota in borsa e in meno di due anni il titolo Fineco si posiziona nell'indice delle 40 maggiori società italiane. Nel 2015, con oltre un milione di clienti, Fineco diventa la banca più consigliata al mondo. E con circa 27 miliardi di patrimoni si posiziona nel 2017 tra i più importanti player nel segmento del private banking, con soluzioni personalizzate per le esigenze più complesse. Il titolo Fineco entra a far parte anche del Euro Stocks 600, l'indice che raggruppa le 600 società europee con maggiore capitalizzazione ed è pronta per essere una banca internazionale. Il 7 giugno 2017 Fineco sbarca in UK. Trading, banking e investimenti in un unico conto multivaluta online. Nel 2018 nasce Fineco Asset Management, la società irlandese con il compito di creare e gestire strategie di investimento in partnership con le migliori case internazionali. A luglio del 2019 Unicredit completa la cessione sul mercato delle azioni Fineco che garantivano il controllo della banca. Fineco Bank diventa una realtà indipendente, una vera e propria public company. Oggi con il suo modello vincente che pone il consulente al centro e le migliori tecnologie di supporto, Fineco è la banca multicanale diretta più utilizzata in Europa per gli investimenti e una delle aziende più solide in Italia. L'innovazione continua, tutto il resto è storia. Fineco, la banca che semplifica la banca. Bene, questi sono tre minuti che riassumono un po' la nostra storia, forse in maniera molto semplificata, ma la cosa che ci preme sottolineare è che noi siamo una banca che nel corso di vent'anni ha fatto tanta strada. Abbiamo avuto probabilmente un'idea fortunata, un'idea geniale, abbiamo rivoluzionato il modo di fare banca, però quello che è importante e che ci preme sottolineare in questa sede soprattutto è che il nostro successo deriva sì da un buon business, ma dalle persone che lavorano all'interno della nostra realtà. Infatti abbiamo sempre, considereremo sempre i nostri colleghi come il vero fattore di successo della nostra banca. Questo perché noi siamo una realtà che ha, come ogni realtà, un DNA particolare, ognuno ha il proprio. Il nostro innanzitutto è un DNA che si basa sulla digitalizzazione, noi siamo nati digitali, non lo siamo diventati e questo per forza di cose ha segnato tutto quello che è stata la nostra storia da quando siamo nati fino adesso. Abbiamo una cultura distintiva, abbiamo un DNA distintivo e ci piace raccontarlo attraverso dei pillars, quelli che per noi sono anche dei modelli di comportamento che seguiamo giorno per giorno facendo il nostro lavoro. Innanzitutto ci piace ricordare che noi abbiamo costruito tutto dalle basi, noi siamo nati come una realtà libera, non abbiamo mai avuto constraints, quindi abbiamo inventato le nostre piattaforme, abbiamo costruito la nostra tecnologia e quindi abbiamo sempre puntato all'eccellenza per quanto riguarda i prodotti, i servizi e le tecnologie. Siamo stati dei pionieri, l'avete sentito nel video, noi abbiamo rivoluzionato il modo di fare banca, abbiamo riscritto le regole del trading che era uno strumento molto di nicchia quando noi siamo nati e sostanzialmente abbiamo puntato tutto su quella che è una tecnologia al servizio del cliente che è in grado di offrire degli altissimi livelli di qualità. Abbiamo fondato, abbiamo individuato delle nuove regole del gioco ma ci siamo sempre basati su tre pilastri fondamentali che poi rappresentano la nostra colonna portante che sono l'efficienza, l'innovazione e la trasparenza. Questi tre principi guidano il nostro cammino e lo guideranno sempre perché Fineco è questa, vuole offrire al cliente l'efficienza nei servizi, la trasparenza nei prodotti e l'innovazione perché comunque noi siamo una banca innovativa. Abbiamo creduto in un approccio unico sul mercato che è l'approccio One Stop Solution, quindi noi abbiamo sempre avuto delle tecnologie proprietarie che ci hanno aiutato a supportare il cliente nell'approccio al suo conto corrente, adottando diciamo quella che noi chiamiamo One Stop Solution, il cliente con un unico account è in grado di accedere a tutta la sua situazione finanziaria e questo lo aiuta in termini di semplicità, in termini di risparmio dei tempi e possiamo concentrarci sempre di più sull'impostare dei prodotti e dei servizi che possano essere alla portata di tutti. L'altro, gli altri nostri pilastri un po' si capisce da quello che ho già detto, noi facciamo tutto da soli, non siamo presuntuosi, non siamo supponenti, diciamo che ci piace gestire in casa tutto quello che facciamo, tutto quello che voi magari vedete, magari qualcuno di voi che vedrà questo video avrà il conto Fineco, tutto quello che è Fineco noi lo sviluppiamo in casa. Questo è un po' un segno di quella che è la nostra attitudine nei confronti delle persone che lavorano con noi. Sviluppare le cose in casa significa dare la possibilità ai nostri collaboratori di sviluppare delle competenze specifiche, delle competenze molto forti e sono competenze che noi teniamo molto strette e che cerchiamo di far crescere nel corso del tempo. Il sesto pilastro è molto particolare, nel senso che siamo un po' visionari, nel senso che noi guardiamo sempre alle stelle, quindi abbiamo gli occhi puntati alle stelle, guardiamo il futuro, però i nostri piedi sono ben piantati per terra. Questa è una frase che ci è particolarmente cara ed è particolarmente cara anche al nostro top management, sicuramente persone estremamente visionarie, quando era addirittura impossibile hanno visto un nuovo modo di fare banca, vent'anni fa faccio una piccola premessa, il nostro top management è lo stesso da quando Fineco è nata, quindi è una realtà estremamente stabile nel tempo, però sono persone che anche se guardavano a un domani che magari sembrava ancora lontano e lavoravano per questo domani, lo facevano con i piedi piantati per terra, quindi erano persone che rimboccavano le maniche e sapevano benissimo che per poter arrivare sulla luna bisognava prima conoscere la terra, diventare specialisti in quello che c'è sulla terra per poi andare sulla luna. Ma noi come facciamo tutto questo? Noi investiamo nei nostri talenti, come dicevo prima, noi creiamo competenze, in qualsiasi ambito noi diventiamo degli specialisti, ognuno per le proprie parti di competenza, con la possibilità, e dopo Tommaso ve ne parlerà, di costruire il proprio percorso, di trovare la propria strada e di costruirsi un set di competenze che poi crea i professionisti del domani. E soprattutto l'ultimo punto che a me sta veramente a cuore, io sono in Fineco da vent'anni, siamo tutti un po' piccoli interprenditori, Fineco è nostra, ognuno di noi lavora creando qualcosa che è suo e questo diciamo è una caratteristica che veramente accomuna tutti noi colleghi sostanzialmente. Questo che vi ho raccontato è un po' il DNA di Fineco, ma qual è il DNA delle persone che noi cerchiamo e che poi entrano a lavorare per Fineco? È molto semplice, noi cerchiamo delle persone che siano veloci, agili al cambiamento, ripeto siamo nati digitali, non ci spaventano le sfide, non ci spaventa il futuro, anzi noi andiamo incontro al futuro, cerchiamo addirittura di crearcelo il futuro, quindi bisogna essere estremamente veloci. Cerchiamo persone innovative che pensino al di fuori degli schemi, vent'anni fa era quasi impossibile pensare che chiunque, anche la casalinga di Voghera per intenderci potesse utilizzare una piattaforma di trading per fare trading, noi l'abbiamo fatto, abbiamo pensato fuori dagli schemi e adesso noi siamo diciamo la prima piattaforma in Italia o in Europa per il trading online. Ci piacciono persone che siano change champion, cosa significa? Ci piacciono persone che ispirino gli altri, che mantengano alta l'energia, che prendano l'iniziativa, quindi persone assolutamente dinamiche, però per fare questo bisogna essere molto cooperativi, noi lavoriamo in team, ci piace la persona che promuova uno spirito di squadra, che promuova la collaborazione, perché è solo attraverso lo sharing di più idee, di più punti di vista che si trova la soluzione, la diversità è quella che fa la vera differenza, quindi si lavora tutti insieme per un obiettivo comune. Oltre a queste caratteristiche ovviamente per noi un talento deve essere una persona che viene riconosciuta come K-performer all'interno della realtà, quindi sia in grado di portare dei buoni risultati e soprattutto una persona che sia in grado di assumersi le proprie responsabilità, quindi che risulti competente, credibile, punto di riferimento per tutti gli altri team, ma per una specifica materia. Questo è il nostro talento, il talento che noi ricerchiamo e il talento che abbiamo in azienda. Forse questa è una presentazione non tanto convenzionale, noi non abbiamo parlato di prodotti e servizi, noi abbiamo parlato del nostro DNA, abbiamo parlato dell'azienda che ci piace essere, delle persone che ci piace avere in azienda, perché? Perché sostanzialmente qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è trasformare Fineco nel place to be. Place to be è facile capire cosa significa, è casa. Ovviamente non pretendiamo di diventare casa vostra, non si lavora in ufficio tutti i giorni, tutta la notte si mancherebbe, però quel posto in cui si va si lavora bene, si lavora insieme agli altri, posto dove vengono generate delle idee, dove si crea qualcosa che ha successo. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo tanti progetti grazie ai nostri sistemi di welfare, grazie al nostro concetto di collaborazione, il nostro concetto di diversità, di inclusione, poi se vi va di approfondire la nostra conoscenza, poi magari cliccate sulle nostre posizioni aperte, candidatevi, vedete se c'è qualcosa che vi interessa e vi racconteremo sempre più volentieri la nostra azienda. Siamo certificati top employer, per noi è molto molto importante perché siamo certificati tra le aziende italiane che adottano le migliori tecnologie o offrono le migliori condizioni di lavoro ai propri collaboratori. Quindi per raccontarvi un po' più nel concreto cosa fanno le persone che lavorano per noi, anzi che lavorano con noi, non per noi, e che lavorano con noi, lascio la parola a Tommaso, ho detto prima analfrecer BP, prego Tommy, mi sono forse dilungata troppo. Vai tranquilla, intanto grazie mille Elena e buongiorno a tutti, cerco di completare un po' il quadro di quello che vi ho raccontato fino adesso la collega. Vorrei entrare un pochettino più nello specifico delle posizioni che abbiamo aperte anche per questo Career Day. Parto dal Data Warehouse Analyst, in questo caso siamo nell'ambito dell'area ICT and Security. L'attività del Data Warehouse Analyst consiste nel creare dei report, creare delle analisi in base alle esigenze di vari utenti interni alla banca, quindi colmare i fabbisogni informativi di varie strutture. I colleghi che lavorano in questa squadra si interfacciano infatti con vari sistemi interni ma anche esterni alla banca e producono una serie di dati in diverse modalità. Per farvi qualche esempio, le informazioni fornite possono essere per dei report richiesti dalla direzione, da qualche back office, dalle segnalazioni di vigilanza, eccetera. Preciso che il team non svolge soltanto la classica attività di Data Warehouse, infatti oltre a raccogliere questi dati si occupa anche di rielaborarli e di mandarli indietro per alimentare altri sistemi, quindi circa il 50% dell'attività consiste in questo. Per questo ruolo specifico stiamo ricercando delle figure che abbiano sicuramente un background tecnico, che si sappiano muovere un po' con i dati, che conoscano almeno un database di quelli indicati nella posizione che abbiamo descritto e sarebbe bene chiaramente che i candidati non si fermassero soltanto a saperli utilizzare questi dati ma anche che avessero un interesse a capire da dove arrivano, dove vanno, che cosa servono, che abbiano interesse insomma nel seguire un po' tutto l'iter e tutta la vita del dato. Passo invece all'altra posizione che abbiamo aperta, sulla quale spendo due parole in più perché è il nostro Evergreen, è la posizione che abbiamo un po' sempre aperta, che è la posizione di Customer Care Specialist. Allora, al Customer Care chiaramente, come dice la parola stessa, i colleghi si occupano di assistenza clienti, quindi rispondono alle chiamate e alle mail dei clienti per informazioni varie, per assistenza tecnica. Tra poco entro maggiormente nel dettaglio di come funziona proprio il lavoro, però prima volevo raccontare di come per noi il Customer Care non sia soltanto questo. Per noi si tratta di una struttura che, a noi ci piace dire, funge da talent incubator. Noi attraverso il Customer Care inseriamo risorse giovani, spesso appena uscite dall'università, che abbiano voglia di capire a 360 gradi come funziona la banca, come funziona Tineco proprio, no? Ricoprire questo ruolo quindi non significa soltanto dare assistenza ai clienti, ma se vogliamo anche essere un po' partner strategici di altre aree della banca. Provo a spiegarmi meglio. Conoscere in prima persona i prodotti, le esigenze dei clienti, le eventuali difficoltà che possono aver incontrato i clienti nell'utilizzo di alcuni strumenti, sono certamente delle caratteristiche fondamentali per ricoprire altri ruoli in altri rami d'azienda, no? Forse l'esempio più facile da fare è quello dell'area business, no? Di chi li progetta quei prodotti, di chi li deve promuovere, ma vi garantisco che sono competenze che diventano utilissime, se non indispensabili per tanti altri ruoli. Quindi è per questo che noi lo vediamo come un trampolino di lancio. Un trampolino che permette alle risorse di capire come funziona il tutto, di capire come girano le cose e poi di seguire la propria strada. Come accade questo? Accade tramite un job posting interno, perché dopo due anni tutti i colleghi del customer care hanno la possibilità di accedere, e non solo, hanno la possibilità comunque di accedere a un job posting, appunto, dove sono visualizzabili tutte le ricerche aperte nelle varie unità organizzative della banca, se ha la possibilità di inviare la propria candidatura e sostenere dei colloqui interni e appunto crescere in altre strutture. Io sono un esempio di questo percorso, se vogliamo, lavoro nelle risorse umane, ma vengo da tre anni di customer care, quelli che hanno iniziato con me nel 2017, infine ecco quelli che io chiamo i miei compagni di banco, oggi lavorano nelle aree più diverse, qualcuno lavora a risk, qualcuno lavora all'ufficio prodotti, qualcuno all'ufficio sicurezza, qualcun altro al legale, davvero ci siamo un po' mossi in tutte le aree. Arrivo alla parte un pochettino più pratica, vi racconto molto brevemente, perché credo che il tempo stia finendo, di come funziona il lavoro, diciamo che nel corso del tempo si arriva a dare assistenza ai clienti su tre argomenti, tre skill come li definiamo, i primi due skill sono banking e credit, si vanno ad apprendere a circa 4-5 mesi di distanza l'uno dall'altro nel corso del primo anno. Il banking riguarda tutta la parte relativa ai servizi bancari, chiaramente, mentre il credit riguarda tutta la parte delle carte di pagamento e del credito al cliente. Come terzo skill invece, che si inizia ad apprendere dopo circa un anno, si apre una rosa di opportunità un pochettino più strutturata e ognuno poi in base al suo interesse e alle sue caratteristiche può scegliere compatibilmente con quelle che sono le esigenze della banca, chiaramente tra vari argomenti, faccio qualche esempio, c'è il trading, quindi informazioni su tutto il mondo dei mercati finanziari, l'investing, informazioni sulle polizze, sui piani di accumulo, poi c'è helpdesk promotori finanziari, che invece si tratta di fornire assistenza non soltanto ai clienti, ma anche alla nostra rete di promotori finanziari, che è capillare un po' in tutta Italia, o prospect, che significa fornire informazioni e assistenza per le aperture di conto corrente, quindi a coloro che ancora non sono clienti Fineco. Ovviamente per ognuno di questi argomenti, che vi ho rapidamente illustrato, si inizia con una formazione ben strutturata, solitamente è una settimana di formazione in aula e poi affiancamenti telefonici attivi e passivi, per un totale di circa tre settimane, poi chiaramente dipende. Vi faccio un esempio personale anche in questo caso, scusate se parlo di nuovo di me, ma lo faccio per farvi capire un po' com'è strutturata la formazione in Fineco. Io al CRM ho scelto come terzo skill il trading. Trading era il core business di Fineco, mi affascinava capire meglio questo mondo, volevo poter lavorare rimanendo sempre aggiornato sull'ondamento dei mercati, eccetera, e mi è stata data l'opportunità di fare questo skill, di apprendere questo skill, nonostante la mia formazione non fosse prettamente finanziaria, io sono laureato in discipline economiche, ma non avevo una formazione prettamente finanziaria. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo per farvi un esempio di quanto si investa sulla formazione delle risorse, di quanto sia strutturata anche da noi la formazione, che da zero riesce a formare una persona, un collega, in modo che possa dare assistenza in maniera corretta e esaustiva, anche su un argomento che è un argomento senza dubbio molto complesso come quello del trading. Qualche altra parola la volevo spendere sull'ambiente del customer care, perché credo che sia uno dei nostri punti di forza, come vi ho detto sono tutte persone molto giovani, quindi molto giovani, quindi l'ambiente è un ambiente dinamico, è un ambiente dove non vi nascondo che si lavora tanto, in alcuni periodi può capitare anche di lavorare sotto stress sicuramente, ma sempre con un clima molto bello, con un clima di collaborazione, di sostegno tra i colleghi e questo senza dubbio è una cosa importantissima. Vi do gli ultimi dettagli tecnici sulla posizione. Allora intanto, non so se l'avevo già accenato prima, si tratta di fornire informazioni dal punto di vista tecnico, quindi non ci sono del budget commerciali, non bisogna vendere nulla per capirsi, non si fa consulenza sui prodotti finanziari, non si fanno valutazioni di credito, si tratta proprio di fare assistenza, di fornire assistenza su vari prodotti, su varie procedure della banca, sia tramite telefono che tramite mail. Per darvi un'idea parliamo circa di un 70% di assistenza a mezzo telefono e un 30% di assistenza a mezzo mail. È un'attività su turni, ci sono quattro turni orari, il primo inizia alle 8 e l'ultimo finisce alle 22, quindi si richiede anche questa flessibilità oraria e la disponibilità a lavorare un sabato mattina al mese circa. Il contratto è un contratto a tempo indeterminato, ci sono tre mesi di prova e l'inquadramento contrattuale è quello della terza area, primo livello del contratto nazionale del credito. Credo che sia terminato il tempo, quindi sono andato un po' rapido per stare nelle tempistiche. Elena, non so se ho detto tutto quello, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ho detto anch'io. Sì, l'ultima cosa che volevo aggiungere è proprio relativa a questo percorso all'interno del customer care. Prima accennavamo al nostro concetto del talento, del DNA di Fineco. Iniziare un percorso all'interno del customer care, iniziare l'esperienza lavorativa all'interno del customer care significa iniziare un percorso, un percorso di sviluppo e siccome noi pensiamo che ognuno di noi è artefice del proprio successo, il nostro compito è cercare di tirar fuori da ciascuno di noi un talento specifico. Da noi non ci sono i talenti perché sono bravi, tu sei un talento perché sei bravo. Io come azienda devo fare in modo che il talento che ti appartiene, qualsiasi esso sia, emerga. E entrare all'interno del customer care dà la possibilità di scoprire insieme questo talento. Dopo due anni, 24 mesi, 36 mesi di formazione non è tanto importante il tempo, ma sapere qual è il talento di una persona, aiutarla a trovare la propria strada, che sia poi all'interno delle risorse umane, dei prodotti, del risk management, del legale, del marketing, non importa. Ognuno deve lavorare su se stesso e il nostro compito è quello di aiutare. Ok? Bene, salutiamo a questo punto. Va bene. Grazie a tutti per averci ascoltato e per il tempo dedicato. Grazie.